Al secondo convegno modelli strumenti e partnership per un'efficace gestione della cronicità nella sessione dedicata alla malattia di Parkinson il professor Cortelli ha inquadrato innanzitutto la malattia che ha un grande impatto sociale e ha approfondito quali sono le modalità migliori per la gestione di questi pazienti. Allora professore ci può chiarire un po' questi aspetti? In effetti la malattia di Parkinson è una malattia che con l'aumentare dell'età presenta un sempre più alto numero di pazienti, è una malattia di cui conosciamo molto dal punto di vista dei meccanismi che provocano i classici tre sintomi che hanno permesso 200 anni fa di identificare questa malattia dal famoso medico di Londra appunto da cui deriva il nome della malattia stessa il dottor Parkinson che sono il tremore, la rigidità e la lentezza di movimento. Questi tre sintomi permettono di identificare una malattia che presenta poi una serie di terapie sia farmacologiche che di tipo terapia fisica o riabilitativo che permettono comunque una buona qualità di vita per molti anni. Professore ci puoi descrivere il PDTA per la malattia di Parkinson attivato nell'area metropolitana di Bologna? In effetti noi in un percorso diagnostico terapeutico che stiamo seguendo in maniera abbastanza dettagliata e precisa nell'area metropolitana di Bologna abbiamo diviso gli interventi e anche l'approccio e le interazioni che ci devono essere tra territorio, centro per lo studio del Parkinson e medico di medicina generale in tre grandi fasi, cioè una prima fase, una fase iniziale nella quale siamo molto attenti a mantenere e a insegnare uno stile di vita sano non solo per la nutrizione ma anche e soprattutto per l'inserimento di attività fisica perché oggi sappiamo che l'attività fisica è un vero e proprio farmaco che permette di rallentare la velocità della neurodegenerazione associata alle prime terapie farmacologiche. Poi naturalmente ci vogliono dei controlli neurologici seriati, generalmente uno all'anno e questo possono permettere di seguire il paziente fino a che non cominciano le prime complicanze. Le complicanze sono legate al fatto che esistono dei momenti in cui il paziente va meglio e dei momenti in cui il paziente si sente come senza medicina, si sente svuotato. E qual è l'approccio in caso di complicanze della malattia? In questo momento le nostre terapie possono essere ottimizzate, si possono associare diversi farmaci, possiamo aggiungere terapie anche ad alta complessità come sono quelle neurochirurgiche o come quelle dell'infusione duodenale della duodopa e soprattutto si inizia una tecnica di tipo riabilitativo specifica, competente che va soprattutto a curare la marcia. Tutto questo naturalmente è fatto non solo per migliorare la malattia ma anche per evitare le complicanze. Ma quali complicanze in particolare? Una delle complicanze più comuni sono le cadute. Le cadute sappiamo che di per sé si portano poi dietro delle sequele che sono per esempio la più comune, la rottura del femore o altri fenomeni di carattere ortopedico che naturalmente hanno poi un impatto molto importante sulla malattia perché di solito hanno di per sé un periodo di immobilità l'immobilità peggiora ulteriormente tutta la sintomatologia e quindi diventa una malattia più difficile da trattare. Noi con le terapie farmacologiche, con le terapie di riabilitazione siamo in grado grosso modo di ridurre l'impatto delle cadute perché possiamo ridurre le cadute attraverso una riabilitazione tipica del modo di camminare. Poi esiste una fase anche più avanzata dove ci sono anche delle complicanze di altro genere spesso legate in parte alla malattia, in parte ovviamente al sommarsi del normale processo di invecchiamento fisiologico a cui va incontro ovviamente il cervello di tutti, compreso quello del Parkinsoniano.